Siamo con Pierluigi Smaldone, candidato sindaco di Potenza Ritorna. Grazie per la sua disponibilità. Grazie per l'invito. Vediamo subito una scheda. Pierluigi Smaldone, avvocato di 35 anni, sposato, laureato con l'Ode in giurisprudenza alla LUIS Guido Carli di Roma, è attivo sin da giovane nei movimenti studenteschi, è il candidato sindaco di Potenza Ritorna, un movimento politico nato nell'ottobre scorso con l'obiettivo di dare discontinuità politica all'amministrazione della città e provare a rilanciarla dopo anni definiti disastrosi, pieni di lacune, di mancanze e di disattenzioni. L'esperienza di consigliere comunale del capologo di Regione Lucano nella legislatura che si sta concludendo inizia nel 2019, tra le fila di Potenza Città Giardino. La sua attività, caratterizzata da un'opposizione intransigente ma mai preconcetta, gli permette di consolidare il legame con la comunità. Per questa tornata elettorale sostengono la sua candidatura a due liste civiche, Potenza Ritorna e Città Nuova, oltre che il Movimento 5 Stelle. Smaldone, Potenza ogni giorno raddoppia il numero di presenze, perché è il fulcro della vita amministrativa tra studenti e lavoratori che arrivano. Questo crea difficoltà ai residenti, però diciamo di vitale importanza per il capoluogo. Come far coinvivere le due cose rendendola un'opportunità e non un disagio? Questa non solo è una grande opportunità per il capoluogo, ma di fatto vuol dire essere capoluogo. Io amo spesso dire che Potenza deve ritornare ad essere degna del suo nome e soprattutto a esercitare il ruolo di capoluogo, quindi come soggetto erogatore di servizi, servizi di alta qualità e soprattutto servizi oggi anche innovativi. Non si può più immaginare come Potenza città di servizi in un'ottica anni 80, ormai superata. Di fatto ci sono delle cose che sono andate avanti e Potenza però deve continuare, anzi tornare ad essere la città, punto di riferimento per l'Interland e per l'intera regione. Ovviamente è chiaro che i servizi richiedono un grande impegno dell'amministrazione comunale, ma soprattutto la capacità e l'autorevolezza dell'amministrazione comunale di dialogare con le altre istituzioni. Noi sappiamo che era stato siglato, è stato siglato ormai più di dieci anni fa, un accordo con i comuni dell'area metropolitana che poi di fatto è andato perduto, come tante cose su cui la politica non ha puntato abbastanza. Ovviamente i servizi di vario genere erogati dal comune e dalle istituzioni pubbliche e private che insistono sul comune di Potenza necessitano di un dato fondamentale, di uno sforzo fondamentale, quello legato alla mobilità. Purtroppo Potenza accoglie tante persone, ma ovviamente non essendoci una reale ed effettiva la connessione di integrazione del trasporto extraurbano con quello urbano spesso diventa una giungla, un luogo da cui scappare per coloro i quali ci vengono per lavoro o per appunto usufruire di tutto ciò che la città offre. Senta, tra le questioni pianose del capoluogo c'è sicuramente la condizione delle contrade, ma soprattutto l'incompiuta a Bucaletto. Sono troppi i potentini che ancora vivono nei container? Che soluzioni propone? Per quanto riguarda la situazione con contrade, è chiaro che noi siamo partiti sempre da un presupposto. Noi stiamo incontrando i cittadini di Potenza, sappiamo che nelle contrade abita circa un terzo dell'intera popolazione della città, quindi parlare di contrade forse è addirittura oggi superato come idea. Di fatto partiamo da un presupposto e da un principio che affermiamo sempre, senza fare promesse, perché ovviamente non si crede alle promesse, soprattutto lì nelle zone in cui c'è stata la maggiore delusione, il maggiore peso del tradimento della scorsa amministrazione, per via proprio delle promesse spesso mirabolanti e non realizzabili che sono state offerte. Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, tutti hanno pari dignità, in quanto tutti pagano le tasse fino a prova contraria allo stesso modo. Quindi è necessario intervenire sulla viabilità, sui servizi, nei limiti di quello che è possibile fare, ma soprattutto con una programmazione. Non si tratta di favori che l'amministrazione deve fare ai cittadini, ma di diritti acquisiti. Lo stesso di casi per Bucaletto, dove ovviamente il discorso è molto più complesso, noi siamo convinti che bisogna partire dall'esistente, ma incidere e lavorare molto sulla residenzialità. È necessario appunto garantire alle persone la possibilità di accedere a parità di condizioni e con le rassicurazioni del caso ad una casa vera. Oggi non è più ammissibile pensare che a distanza di più di 40 anni, quando Bucaletto è stato trattato come quartiere, un po' come qualcosa che faceva comodo alle amministrazioni, non è più possibile pensare di distruggere una comunità che di fatto ogni giorno lotta per andare avanti, quando ci sono delle eccellenze senza un piano serio, oculato e senza false promesse. L'amministrazione ha anche il dovere di tutelare chi vive un disagio sociale tra povertà e carenza di supporto, soprattutto per i disabili che non trovano quasi mai servizi calibrati sulle loro esigenze. Per loro cosa ha pensato? In questi giorni mi consenta di raccontare un po', ho ricevuto decine di telefonate, ho fatto decine di incontri con disabili e con famiglie, spesso genitori di ragazzi o bambini disabili, che hanno raccontato un po' tutta la loro delusione, quello che purtroppo hanno percepito, spesso hanno percepito di vivere sotto una campana di vetro isolati dall'amministrazione. Questa cosa non è più ammissibile. Innanzitutto bisogna partire dal PUMS, il Piano per la Mobilità Sostenibile, e il PEBA, il Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono dei documenti fondamentali in tema di mobilità e appunto di accessibilità che non possono essere dimenticate e che non possono rimanere su carta. Un'amministrazione seria e degna di questo nome dovrà necessariamente lavorare per l'implementazione, anche perché su questo, in particolare per la rimozione delle barriere architettoniche, e ci sono fondi a disposizione, si deve intervenire con urgenza. Spesso poi, mi consenta di fare una precisazione, il tutto nasce da una sbagliata e da una disattenzione, da una mancanza di cultura verso il rispetto di tutti all'interno della città e non dalla mancanza di fondi. Spesso ci sono delle operazioni e degli interventi che sarebbero a costo zero. E inoltre le famiglie devono sapere che l'amministrazione sarà sempre dalla loro parte. Una città davvero attenta a tutti e solo non fa niente di straordinario, fa quello che davvero la città deve fare per poter davvero non lasciare indietro nessuno e garantire a tutti parità di condizioni. Ma per questo ci vuole tanto impegno e tanta sensibilità. E affrontiamo un altro tema, ovvero il tema del centro storico. Via Pretoria non è più attrattiva come un tempo, sono sempre più le attività commerciali che abbassano le sere cinesche. L'opportunità di potenza Città dei Giovani, questo riconoscimento, può essere uno slancio ulteriore? Città dei Giovani è stato un riconoscimento, ma più che altro va letto secondo me anche da amministratore come uno stimolo a fare qualcosa. Perché non facendo niente Città dei Giovani potrebbe rimanere, rivelarsi, mi perdoni il termine, un'ennesima fregatura, anche un po' come lo è stato forse Potenza Città dello Sport. È necessario che la città si impegni davvero per realizzare qualcosa, strutture e in qualche modo organizzazioni stabili che davvero tengano conto dei giovani e che non se ne ricordino solo quando è necessario, solo per fini utilitaristici. E il centro storico sicuramente può beneficiare di questo rapporto con i giovani che sono il motore, che sono in qualche modo la linfa vitale di questa città. Noi abbiamo immaginato innanzitutto di connettere davvero l'università con il centro storico e di mantenere un contatto continuo e costante anche con i giovani che sono andati fuori. Tant'è vero che abbiamo inserito un punto nel programma e abbiamo già iniziato ad attuarlo da prima dell'appuntamento elettorale che si chiama Fuori Potenza, un canale per coloro i quali sono qui e per tenere in contatto con i giovani potentini in giro per il mondo. Il centro storico ha dei problemi che però vanno al di là ovviamente della questione giovanile, io penso alla questione dell'accessibilità, noi abbiamo lanciato una proposta sull'Ariston, o alla questione del regolamento in deroga per le attività commerciali e gli esercizi. Noi abbiamo un problema gravissimo, in questi anni non si è mai raggiunto, in qualche modo non si è mai raggiunto un accordo in deroga con l'azienda sanitaria per la possibilità di aprire attività commerciali ed esercizi di ogni genere in immobili che di fatto hanno 200-300 anni di storia e non possono sottostare alla normativa vigente per tutti gli altri edifici. Ed infine un messaggio elettorale, perché i potentini devono votare lei e i partiti che la sostengono? Io da potentino dico che noi spesso siamo abituati a lamentarci delle cose che non vanno in città e quasi sempre abbiamo ragione, perché le cose non sono andate bene, la situazione, lo stato di degrado, di depressione civile, sociale e economica in cui versa la nostra città sono sotto gli occhi di tutti. Questa volta però c'è davvero una proposta politica innovativa, libera e in grado di cambiare le cose, di lavorare in maniera seria per la città, senza promesse, senza slogan. Abbiamo costituito una coalizione civica basata sulla partecipazione, siamo partiti tanto tempo prima ma non per una ragione di tempistica, perché siamo convinti del fatto che il lavoro serio, un programma strutturato e partecipato siano l'unica speranza per questa città. Abbiamo costruito una squadra, abbiamo fatto delle riunioni organizzando e incontrando tanti cittadini, soprattutto quelli che, e ce l'hanno detto in tanti, da anni non andavano a votare. Abbiamo in qualche modo elaborato un progetto per questa città libero e lontano da ogni apparato e ogni condizionamento, in quanto civico vero, e questo farà la differenza, anche perché saremo in grado di, in qualche modo, costruire anche una giunta e una squadra di governo che non dovrà tener conto solo degli equilibri di partito, delle correnti o del rispetto, no, di, diciamo, cambiali, come purtroppo spesso è successo. Siamo davvero pronti e siamo l'unica alternativa credibile, l'unica proposta politica credibile per cambiare il volto della città e donarle un nuovo futuro.